La morte dei due ragazzi all'interno di una palazzina disabitata di Via Longo a Teramo ha riaperto nell'opinione pubblica una ferita mai rimarginata del fallito housing sociale dell'intero complesso popolare. Il progetto di riqualificazione degli stabili di Via Longo prende il via nel 2012 con l'allora sindaco Brucchi senza mai concretizzarsi per mancanza di risorse economiche, anche se da quella data comincia lo sgombero delle prime due palazzine che da allora sono disabitate e preda di abusivi. Oggi il sindaco D'Alberto è abbastanza fiducioso e ricorda che il progetto presentato ad aprile scorso al Ministero delle Infrastrutture si è piazzato tra i primi sei per l'accesso al finanziamento di 15 milioni di euro. Il primo cittadino di Teramo ha già chiesto al nuovo governo di rispettare la graduatoria e di concedere le risorse necessarie a riqualificare non solo i 96 alloggi popolari ma l'intero quartiere. Intanto si fa sempre più difficile e delicata la situazione dei residenti che continuano ad abitare nelle altre palazzine accanto alle due abbandonate. Il disagio del degrado circostante diventa ogni giorno più pesante e il lungo fiume infatti è diventato anche luogo di spaccio a cielo aperto. Sulla vicenda interviene Casa del Popolo per ribadire l'emergenza abitativa che si vive in città ormai da anni. Mancherebbero alloggi per i più bisognosi e gli enti preposti come Comune Ater non riuscirebbero a dare risposte adeguate. Sono morti due ragazzi per tal incuria e martedì sera si svolgerà a Via Longo una grande assemblea pubblica indetta da Casa del Popolo e alla quale parteciperanno i residenti della zona.